Hertz, io ho fatto la tesi in AI solo per capire se mi fa cagare o meno, spoiler mi fa cagare io ci ho lavorato, io sono stato pagato per un anno e mezzo per lavorarci, non so riuscire a più a me l'AI a un certo punto, era il mio sogno da bambino due volte ci ho provato, non mi ha mai attecchito, non mi ha mai fatto venire voglia vedo che continuano a chiedermi perché, non vado pazzo per machine learning perché machine learning non è informatica, machine learning è come alchimia versus chimica cioè la chimica è studiare le condizioni di causa e effetto quindi studiare le cause per generare effetti, studiare i processi, capirne le cause capirne il determinismo, il software engineering è il determinismo il machine learning è alchimia, è magia tu progetti una rete, fai il training e poi dopo funziona abbastanza quando non funziona non sai spiegare il perché quando non funziona, quando il video su youtube a un certo punto esce quello porno per bambini non c'è nessuna if then else da nessuna parte nel codice non sai spiegare il perché e sta roba qui è alchimia è come il siero per far innamorare di te metto mezza gota di coccodrillo non sai perché questi ingredienti funzionano è poco interessante per uno che vuole aver controllo è indebaggabile tutto funziona a trial and error senza ripetibilità senza che poi tira fuori delle metriche di successo non fa per me, non è ingegneria ma magari veramente è un mio opinione, è un po' argomentata ci sono stato dentro però c'è chi dice il contrario e quindi accetto